Undici figli. Ho undici figli. Il primo è fisicamente poco appariscente, ma serio e intelligente. Pure non ho molta stima di lui, benché come figlio lo ami come tutti gli altri. Il suo modo di pensare mi sembra troppo semplice. Non guarda né a destra né a sinistra né in lontananza. Compie continuamente il periplo della ristretta cerchia delle sue idee. O meglio, vi si aggira dentro. Il secondo è bello, snello, ben fatto. È un piacere vederlo in posizione da schermitore. Anche lui è intelligente, ma inoltre esperto della vita. Ha girato molto e perciò parche perfino la natura del paese natio parli a lui con più confidenza che a quelli che non se ne sono allontanati. Questo merito non è però da attribuirsi soltanto e neppure esclusivamente all'aver viaggiato, ma fa piuttosto parte di quel che è inimitabile in questo figliuolo e che viene, per esempio, riconosciuto da chiunque vuole imitare i suoi magistrali tuffi, pieni di salti mortali ripetuti eppur regolati da un violento dominio di sé. Sino alla punta del trampolino, chi vuole imitarlo ha coraggio e voglia. Arrivato a quel punto, però, invece di saltare, si ferma. Si siede d'improvviso alzando le braccia per scusarsi. Eppure, malgrado tutto, dovrai pur essere felice di un tale figlio, i miei rapporti con lui non sono sereni. Il suo occhio sinistro è un po' più piccolo del destro e lo strizza spesso. È un piccolo difetto, certo, che rende il suo volto ancor più tracotante di quel che non sia già. E nessuno, di fronte alla riservatezza inaccessibile della sua natura, noterebbe come un difetto quest'occhio più piccolo che ammicca. Ma io, come padre, sì, non è certo il difetto fisico che mi affligge, ma piuttosto una piccola irregolarità del suo spirito che vi corrisponde in qualche modo, un qualche veleno che circola nel suo sangue, una qualche incapacità di condurre a pieno compimento quella disposizione della sua vita che io solo intravedo. Ma, d'altra parte, proprio questo fa di lui il mio vero figlio, perché questo suo difetto è comune a tutta la nostra famiglia e in lui è soltanto più evidente. Il terzo figlio è bello anche lui, ma non di quella bellezza che mi piace. È la bellezza del cantante, bocca sinuosa, occhi sognanti, una testa che, per spiccar bene, ha bisogno di un drappeggio dietro di sé, petto che si gonfia esageratamente, mani che facilmente si levano in alto e troppo facilmente ricadono in basso, gambe che si muovono con ricercatezza perché non sanno portare. Inoltre, il tono della sua voce non è pieno. Per un momento inganna, fa tender l'orecchio all'intenditore, ma subito dopo si spegne. Per quanto tutto possa spingermi a mettere in mostra questo figlio, preferisco tenerlo nascosto. Egli stesso non si fa avanti, non già perché conosca i suoi difetti, ma per ingenuità. E poi si sente estraneo il nostro tempo, come se appartenesse alla mia famiglia, ma insieme anche ad un'altra, perduta per sempre. Egli è spesso di cattivo umore e nulla riesce a rasserenarlo. Il mio quarto figlio è forse il più socievole di tutti. vero figlio del suo tempo, si fa comprendere da tutti, si muove sopra un terreno comune a tutti e ognuno è tentato di fargli un cenno di consenso. Forse questo generale riconoscimento conferisce alla sua natura una certa lievità, ai suoi movimenti una certa disinvoltura, ai suoi giudizi una certa non curanza. Alcuni suoi detti verrebbe voglia di ripeterli spesso, solo alcuni però, poiché nel loro complesso peccano ancora di troppa superficialità. E' come uno che spicca un salto in maniera meravigliosa, fende l'aria come una rondine, ma finisce poi miseramente nella squallida polvere, ormai ridotto a un nulla. Simili pensieri mi amareggiano la vista di questo figliuolo. Il quinto figlio è buono e caro. Prometteva molto meno di quanto ha mantenuto. Era così insignificante che insieme a lui ci si sentiva proprio soli. Eppure è riuscito a guadagnarsi una certa stima. Se mi si chiedesse come ciò sia avvenuto, non saprei proprio come rispondere. Forse l'innocenza si fa ancora strada con la massima facilità nell'infuriare degli elementi in questo mondo. Ed egli è innocente. Forse anche troppo. Gentile con tutti. Forse anche troppo. Lo confesso. Mi sento a disagio quando lo si loda in mia presenza. Vuol dire rendersi troppo facile una lode quando si loda a chi ne è così palesamente degno come mio figlio. Il mio sesto figlio sembra almeno a prima vista il più meditabondo di tutti. E malinconico è insieme a un chiacchierone. Perciò non è facile con lui spuntarla. Se sta per avere la peggio cade in un'inevitabile tristezza. Se invece conquista il sopravvento, cerca di conservarlo chiacchierando. Tuttavia non gli nego una certa passione che lo rende dimentico di se stesso. Spesso in pieno giorno si dibatte nei suoi pensieri come in sogno. Senza essere malato, gode di un'ottima salute, barcolla a volte specialmente sull'imbrunire. Ma non occorre aiutarlo. Non cade. Forse di questo fenomeno ha colpa il suo sviluppo fisico. Egli è troppo alto per la sua età. Questo nel complesso non lo rende bello nonostante la bellezza eccezionale di singole parti del corpo. Per esempio delle mani e dei piedi. Non bella è poi anche la sua fronte. anche di incartapecorito, tanto nella pelle come nella conformazione delle ossa. Il settimo figlio mi appartiene forse più di tutti gli altri. Il mondo non sa apprezzarlo. Non capisce la particolarità del suo umorismo. Non che io lo sopravvaluti. So bene che è piuttosto comune. Se il mondo non avesse altro difetto che quello di non saperlo apprezzare sarebbe ancora puro. Ma non vorrei che questo figlio mancasse in seno alla mia famiglia. Egli vi porta in quietudine e insieme rispetto per la tradizione. E sa fondere questi due elementi, almeno a mio parere, in una perfetta unità. Vero è che da questo fatto lui, meno degli altri, sa trarre qualche conclusione. Ne sarà certo lui a mettere in moto la ruota dell'avvenire. Ma questa sua disposizione è così consolante e fiduciosa. Vorrei che avesse dei figli e questi ancora figli. Purtroppo questo desiderio sembra non si debba avverare. Per quanto a me sia comprensibile e insieme dispiaccia che egli sia così soddisfatto di sé, in profondo contrasto inoltre con l'opinione di quanti lo circondano, se ne va sempre solo in giro senza occuparsi delle ragazze e senza perdere mai perciò il suo buon umore. Il mio ottavo figlio è la mia croce e non so in fondo perché. Mi guarda come fossi un estraneo. Eppure io, come padre, mi sento strettamente legato a lui. Il tempo ha rimediato molte cose. Prima però mi coglieva a volte un tremore soltanto a pensare a lui. Egli va per la sua strada. Ha rotto con me tutti i rapporti, con la sua testa dura e il suo piccolo corpo atletico. Soltanto le gambe erano da bambino, molto deboli. Ma questo difetto si deve essere già cancellato nel frattempo. Saprà sempre farsi strada dove gli piacerà. Spesso mi è venuta la voglia di richiamarlo. Chiedergli come andassero le cose. Perché si tenesse così lontano dal padre e cosa in fondo avesse in mente. Ormai è così lontano ed è passato già tanto tempo. È meglio che le cose rimangono come sono. Ho sentito dire che, unico fra i miei figli, porta la barba. Ha un uomo così piccolo. Non starà certo bene. Il mio nono figlio è molto elegante e ha il dolce sguardo che ci vuole per le donne. Così dolce che a volte riesce sedurre anche me, che so bene come basti un solo colpo di spugna bagnata per cancellare tutto quello splendore soprannaturale. La caratteristica di questo ragazzo è però che egli non cerca affatto di sedurre. Si contenterebbe di star tutta la vita sdraiato sopra un canapè, lasciando scorrere lo sguardo sul soffitto, o meglio ancora riposare sotto le palpebre. Quando si trova in quella posizione, da lui prediletta, parla volentieri e neanche male. Conciso e chiaro, ma sempre in limiti molto stretti. Appena li supera, e data la loro ristrettezza è inevitabile, il suo discorso diventa completamente vuoto. Gli si farebbe volentieri cenno di smettere se si avesse la minima speranza che il suo sguardo pieno di sonno se ne accorgesse. Il mio decimo figlio passa per un carattere poco sincero. Non voglio né contestare né pure confermare completamente questo difetto. Certo, chi lo vede così pensa? Ecco un autentico ipocrita. Ma lo si ascolti? Prima, assennato, parla con prudenza, conciso, è pronto a rispondere a tutto con maligna vivacità. Insorprendente, naturale e allegro accordo col mondo intero. Un accordo che necessariamente gli fa irrigidire il collo ed ercere il corpo. Molti, che si ritengono molto furbi e, perciò, secondo loro, si sentono respinti dal suo aspetto, sono stati fortemente attirati dalla sua parola. C'è anche chi rimane indifferente dinanzi al suo aspetto, ma ritiene ipocrita la sua parola. Io, come padre, non voglio giudicare ciò, ma devo ammettere che gli ultimi giudici sono comunque più degni di essere presi in considerazione dei primi. Il mio undicesimo figlio è gracile. Certo è il più dolce di tutti, ma la sua debolezza inganna, perché a volte sa essere forte e risoluto, ma anche allora la sua debolezza è in qualche modo determinazione. Non è, però, una debolezza di cui sabbia avergognare, ma qualcosa che sembra tale soltanto su questa nostra terra. Non è, per esempio, anche la disposizione al volo una debolezza, trattandosi di un vacillare incerto, di uno svolazzare a caso. Qualcosa di simile appare al mio figliuolo. Il padre, di tali qualità, non può certo rallegrarsi, perché tendono evidentemente alla disgregazione della famiglia. A volte mi guarda, quasi mi volesse dire, ti prenderò con me, babbo, ed io penso, allora, saresti l'ultimo a cui mi affiderei. E il suo sguardo sembra rispondere, ebbene, che io sia almeno l'ultimo. Questi sono i miei undici figli.